Guardami bene, prendi appunti, so quello che faccio, non ho dubbi Tu hai un'attitudine veramente molto americana Eh, io, mia madre è Nicki Minaj Sì, beh, fammi parlare Scusa Rischi di essere troppo caricaturale Non devi rappresentare o imitare i tuoi idoli Vabbè, non mi sento l'imitazione di nessuno sinceramente perché io, cioè Secondo me, una donna che decide di rappare, decide di emergere Non può dire cose che un uomo si aspetta che una donna dica Non dico solo questo, so fare altro Eh, lo so, però questa è una chance E tu ci hai portato una versione Nicki Minaj italiana Cerca la tua identità, perché io non credo, cioè io penso No, va bene, ma io la mia identità, cioè, la so bene Quindi ti ringrazio per il consiglio Buon proseguimento e grazie a tutti No, no, no Aspetta Devo parlare pure io Tanto so che non vengo, quindi Secondo me tu devi imparare innanzitutto ad ascoltare le persone